Network marketing cosa ti serve? Prima parte Quando dai l'opportunità alle persone ti potrebbe capitare che ti rispondano che sanno già, che hanno già capito e che in questo sistema hanno già messo un piede dentro ma non si guadagna Loro dicono così perché considerano solo il guadagno orario Alcuni ti potrebbero dire ad esempio Guarda proprio ieri ho fatto delle pulizie presso degli uffici 3 ore e ho guadagnato 30 euro Questa categoria di persone pensa che esista solo il lavoro da dipendente Sistema di istruzione sul business del mondo reale significa Imparare a fare affari in proprio costruendo un network di alleanze Come impari tutto ciò?